musica 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 Hakuna Matata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio che per 89 siamo tornati in un nuovo appuntamento di Dead Rising 3 intanto io mi porto via una bella auto sportiva oggi ce ne andiamo un giro come solo noi sappiamo fare mentre non capisco perchè inizio il gioco a me mi fa dei caricamenti mostruosi Jesse uuuuh senti che macchinetta andiamo no no signora si compri una sua mattina per cortesia dobbiamo andare al buffet dobbiamo andare al buffet però prima di farmi vediamo un po' dov'è eh ecco vedete per esempio io già stavo sbagliando ce ne dobbiamo andare a sinistra prendere l'autostrada e andarcene a fare in culo quindi e no mamma mia e che cos'è toglietevi permesso permesso e dai allora ho trovato la possibilità di fare una nuova armetta il bastone elettrico ma sinceramente come si fa? allora vediamo un po' schemi per armi bastone elettrico che poi dovrebbe essere un'arma d'oro perchè comunque ci sono anche le armi d'oro novità bastone elettrico batteria più semaforo ok quindi la batteria ce l'ho mi butto questo mi prendo il semaforo e ci faccio la combo costruiamo son curioso ohhh e no me l'ha tolta ma vai a cagare vai ohhh la proviamo? no si 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 la proviamo si devo andare al buffet pronto dov'è il buffet? pronto signore avanculo ah ecco lo sto là aspetta uhhh nella ciocia nella ciocia proprio guardate che figo uhhh qui non puoi passare vieni qua no no x aia no 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 vaffanculo voglio fare la eccola che cos'è? ma che era sta cacchetta? ok qua c'è il rifugio da sbloccare ma non mi va di sbloccarlo oggi vi ho promesso che avrei fatto questa qua di missione e io andrei uuuu mamma mia st'arma è qualcosa di incredibile bam ma che bestodd ma che bestodd allora il buffet è vicino quindi io vado avanti quest'arma mi piace da morire perchè i zombie se li mangia cioè se li mangia anche poi tra l'altro qua vicino noi stavamo al cinese vi ricordate il cinese pazzo? si ma non mi rottate in fascia su non mi rottate facciamo le persone serie una volta esamina il buffet no io allora io penso che ci sia un cuoco o tipo un mangione enorme le cose sono due giustamente oh mamma mia gli zombie qua io non resisto mai non potete passare mamma mia uuuu guardate che lagga il gioco uuuu guardate quel combo guardate che combo uuuu no mi si è tolta ma quanti non uccisi ragazzi ma qua il pollice in su ci va tutto eh ok fammi passare però fammi passare fammi passare armi buone non ne ho molte di armi buone accidenti vediamo se posso passare per di qua eh il semaforo no è chiuso il semaforo ce lo dobbiamo rifare per forza jesse non mi morire per carità del cielo ma se io non posso entrare oh posso entrare invece vediamo 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 aperta le scommesse è un cuoco è un mangione o secondo voi che cos'è? vediamo eh c'è del cibo qui dentro eh cosa cosa che cazzo è? una cuoca che cazzo sei il mio cibo abbastanza per tutti vedo vedo come mi guardi ma sai cosa? non voglio mangiare più carboidrati sono stufa del sedano ho fame ma che schifo è? non voglio mangiarlo tutto da sole no stai a vedere ma che cazzo? ma dai ma che cazzo? questo ci mori comunque secondo me Vattene subito dal mio cibo! Oh, che forchetta nur... Minchia! Di la... Grassona! Eh, mamma... Aiuto! Jesse, spara! Jesse, spara! Jesse! Venite qua! Stronza! Venite qua! Mamma mia! Mamma mia! Ti sparo deduto! Con questa cazzo di carrozzella! Non ce n'è, ma c'è niente! Aspè... No, ma che schifo! Ma questo... Ma che... Venite qua! Questa vomita! Aio mi picchia Vieni qua A te tu sorella Ma che schifo Vieni qua Vieni qua Aaaaaah Jesse hai rotto il cazzo Le stai ammazzando tutte tu Aaaaaah Mi sento davvero male Oh mio dio No lo dico io Ho molto gas nella faccia Senti i gorgogli Proprio Mi hai fatto fare indigestione A puzzare merda proprio Tu Piccolo Porco Col vomito addosso Oddio Oddio Ma come Aaaaaah Tokyo Drift Aaaaaah Ma che schifo Chiavi della cucina Del buffet Senti che bella musichetta Mangia Mangiamo Mangiamo Uh Eh vabbè ma Nick Ma pure tu Ok Ok Ah ecco Va bene Nick Giustamente Grande Nick Vediamo se mi fa Uh E vabbè ma E vabbè ma quanta roba Uh No 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 Voglio Tirala Uh Morite tutti Bastardi Moriteci male Aspetta c'è una mossa combo No non ci faccio niente Ecco tiè Becca Jesse è il secondo boss Che mi fotte eh Io lo dico Il secondo boss Che mi fotte Jesse Prima o poi Signori Jesse Farà una fine Alquanto brutta Secondo me Dai via Dai via Ma vabbè Eh vabbè Eh vabbè Gli abbiamo fatto molto male Tra l'altro Comunque Io non mi sarei mai Aspettato di dover affrontare Una cosa del genere Perché era un abominio Sinceramente Ma che è tutto bene Nick Ma hai visto contro Lui appena combattuto Vabbè Ragazzi Io direi Che il video di oggi Può finire qui Pollicio nel su Commentate Condividete Al prossimo appuntamento Con il vostro Ciamolo 89 Ciao amici cari Ciao A veri qua A veri qua